Amici che non credo neanche niente. Quegli amici purtroppo non li ho più risolvati in vita. Vedete anche oggi il mio parrucchiere non è tornato a me. Questo break! Il mio parrucchiere è morto di nuovo, anche il nuovo parrucchiere che avevo ingaggiato. Con grande gioia, allegria e credendo di trovare meno guai per la vita, c'è un look più adatto all'Ulka Network. Allora, tre parrucchieri morti in un anno. Molto lanciato da un tiro, un altro intombato da un bambino di 12 anni, l'ultimo morte naturale. Tanti momenti drammatici, pochi contanti e venti ancora di più, come quelli del nord Italia che portano via anche i palli della luce. Poi ti cammino in capo e ti risolvi non ce nemmeno. È un momento drammatico, non per l'Italia ma per chi ci crede, per chi crede in generale al nuovo pianeta. Io ci credo ancora. Allora, è un momento a cambiare. Buono. Ti ci devi credere nel cambiamento, nel volvere, nel costante determinante. chi più evolve più avanti va, chi evolve. Diventa una Volvo dell'81. Da volta a mano. Ok dai, andiamo a portare l'Ulka Network, ancora più potenti che energici, correttamente identici al mio alimentare seguito. Allora, ciao. Aditi. Tutti. Ok. Ok. Come in però. Ok. E00. Ci sonote. E00. 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 Grazie a tutti.